Ma con Valeria non ci sarà mai un chiarimento? Forse il momento di parlare con lei era prima, non dopo. Ma il tuo rapporto con lei non è proprio più sanabile? L'ha detto lei tante volte, io sono morta e sepolta. Non mi aspettavo potesse arrivare a tanto, tanto quanto lei forse non si aspettava io potesse arrivare a tanto. Per cui non dico che siamo pari, io mi sono dato tutte le colpe del mondo, qualcuno ha detto forse ti sei colpevolizzata anche troppo. Per cui punto, cioè io le colpe le ho e ho quel tipo di colpe lì, non altre. Basta, non credo che ci sia un dialogo, una cosa da chiarire, una cosa da sottolineare con lei, niente. Non eravamo migliori amiche. Però lei ci ha raccontato il contrario. Lei ha anche detto la prima volta, si parla tanto che eravamo come una famiglia, ma io e lei la conoscevo appena. Allora qual è la verità? Non lo so, tuo fratello ci ha detto che comunque Luis e Valeria sono stati molto vicini alla tua famiglia. Assolutamente sì, questo è un altro discorso. Stiamo parlando di quell'estate lì, che fosse la mia migliore amica da 25 anni, come si diceva, lei ha smentito subito dicendo che ero poco più di quella conoscente. Non è vero che trascorrevi i pomeriggi a raccontare magari della tua situazione matrimoniale con lei? No, però la vicinanza che c'è stata fra noi è stata quest'estate.